Credo che quando vedi un problema come quello dell'immigrazione devi avere l'intelligenza di ragionare da qui ai prossimi dieci anni e intervenire in Africa, investire con la cooperazione ai li aiuti e allo sviluppo Come dice anche Claude che metterà un sacco di soldi, come stai? Un miliardo e settimente, per cui l'operazione non la puoi fare semplicemente con un numero o con un aspetto diciamo semplicemente economico